Siamo sempre di meno e sempre più anziani. La fotografia scattata dagli Istat nel censimento 2020 mostra un'accelerazione del calo demografico in Abruzzo e in generale in Italia. Nell'anno della pandemia l'Abruzzo ha perso 12.929 residenti, circa 4.000 in più rispetto a quanto previsto. È come se un comune della grandezza di Alba Adriatica fosse scomparso nel nulla. La flessione anche a livello nazionale. La popolazione italiana è diminuita di 405.000 unità. Non si registrava un saldo così negativo tra nascite e decessi dal 1918. Nel 2020 il record minimo di nascite, 405.000, a fronte di un alto numero di decessi, ne sono stati 740.000. E questo anche perché il Covid ha determinato una cristallizzazione della società, riducendo i cambi di residenza e i trasferimenti sia nazionali che internazionali. Eppure in Abruzzo il numero degli stranieri è aumentato di circa 1.000 unità, un dato questo in controtendenza a quello nazionale. Inoltre la popolazione è sempre più anziana. L'età media in Italia è passata da 45 a 45,4 anni. In Abruzzo per ogni bambino al di sotto dei 6 anni di età vi sono 5,7 over 65, mentre il rapporto nella media nazionale è di 5,1. Inoltre secondo l'Istat vi sono sempre più laureati ma resta il divario territoriale. L'Abruzzo è la seconda regione in Italia dietro al solo Lazio per percentuale di laureati. Ha concluso il percorso di studi il 15,9 per cento degli adulti abruzzesi. Resta comunque una fetta consistente di analfabeti e persone senza titolo di studio. A livello nazionale sono il 4,4 per cento, percentuale che sale al 5,6 per cento al sud e al 5,5 nelle isole. Nel rapporto Istat infine è citato anche un record tutto abruzzese e quello di Montebello sul Sangro in provincia di Chieti che è il comune più rosa d'Italia. Qui per ogni 100 residenti di sesso femminile ve ne sono 63 di sesso maschile il che significa che dei 92 abitanti di Montebello 56 sono donne e 35 sono uomini.